Ciao ragazzi, video velocissimo per andare a vedere insieme come funziona la nuova skill Monclerc, secondo me è stra figosa, io ve la consiglio se avete 1800 VBAC, prendetevele tutte e due, anche perché per forza tutte e due le dovete prendere. Qualcuno mi ha commentato subito ma secondo me è troppo alto il prezzo, effettivamente forse sarebbe stato meglio poter sceglierne una sola, però è anche vero che una skin che ha tre stili, bianca, nera e colore attivo singola sarebbe costata 1500, siccome una collaborazione potrebbe essere stata anche 1600, quindi magari dobbiamo comprarci una skin a 1600, a questo punto 1800 tutte e due è un buon affare. Allora la reattività funziona praticamente che più sta in alto più la skin è nera, più sta in basso più la skin è bianca, quasi tutte le città della mappa, lago, parco, siepi si trovano diciamo al livello più o meno zero, quindi la skin saltando, costruendo appena appena si vede la reattività. Stando su in montagna rimane praticamente sempre nera, stando nelle zone basse tipo pantano rimane praticamente sempre bianca. La skin comunque è bella, quella femminile almeno, quella maschile è un po' più grossa ma anche quella maschile è abbastanza figosa. Il giubbotto secondo me è addirittura anche meglio, giocandola da dietro comunque è piccola e snella quindi non dà difficoltà. Non so raga cos'altro aggiungere, cioè comunque è abbastanza minimal diciamo come skin. Non volevo solo farvi vedere questa roba, fatemi sapere se ve la shoppate, like al video, mi raccomando, codice creatore e vander trattino auto creepy essere usati e taggateli.